Cambiamenti ai vertici dei carabinieri di Salerno. Il comandante provinciale Gianluca Trombetti va via, ha terminato il suo incarico. Si conclude un'esperienza importante, resta prioritaria la lotta alla violenza sulle donne e il femminicidio di Anna Borsa, tra i casi che lo hanno maggiormente segnato. Mi hanno colpito sia le modalità che anche la pervasività del fenomeno dell'avvenza contro le donne. È un po' indicativo che c'è bisogno di un passaggio culturale molto profondo. Altra priorità da combattere ancora le baby gang. È un problema molto diffuso quello delle devianze dei minori, ma viene richiesto un po' da tutti maggior impegno, maggiore consapevolezza a partire dalla famiglia. A partire dalla famiglia, continuare con la scuola e tutti quanti gli altri che hanno non soltanto la possibilità, ma credo anche il dovere morale di aiutare i ragazzi. Intanto si presenta alla città la guida del reparto operativo dei carabinieri Luigi Aureli. La provincia di Salerno è una provincia molto vasta e molto diversificata. Ovviamente, come tutti sanno, abbraccia territori tra di loro molto diversi, disomogenei, grandi. E questo lo rende pertanto una realtà molto professionalizzante e molto sfidante per quello che riguarda il nostro lavoro.